Conosci la storia delle murate? Un luogo che per molti anni ha significato soltanto dolore e sofferenza, sì perché questo era il vecchio carcere maschile di Firenze, dal 1845 al 1984. Oh, ma qui ci stanno, galoppini, i criminali veri? Ma perché il nome le murate? Perché questa prima di diventare una prigione è stata un convento e le suore che vi abitavano scelsero volontariamente di vivere murate nel vero senso della parola, delle piccole scende. Oggi quest'ambiente è stato restituito alla città, è stato restaurato, devo dire c'è parecchio fermento. Qui assiede anche l'incubatore di impresa Murate Idea Park, che quest'anno insieme a Conf Cooperative Toscana ha lanciato una call per chiunque volesse concretizzare la propria idea di business. Le candidature sono aperte dal 16 gennaio al 6 marzo. Quindi, insomma, tra questa idea che spacca da un monte di tempo è arrivato il momento di concretizzarla. Appena poco, non ti vergognare. Anche perché laddove si imprigionavano gli uomini, oggi si spingono le idee.